Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha conferito la medaglia d'oro al merito civile al Comune di Condove. Mercoledì 19 gennaio in Prefettura a Torino la cerimonia, senza pubblico per il Covid, durante la quale il Prefetto Ruberto ha consegnato l'altissimo riconoscimento alla delegazione di Condove, composta dal Sindaco Jacopo Suppo, la Vice Sindaca Chiara Bonavero, l'ex Sindaca Emanuela Sarti, lo storico Giuliano Delfini, autore della documentazione e Danilo Bonavero per l'Ampi Locale. Una giornata storica per il Comune, ha commentato con emozione il Sindaco Jacopo Suppo. Emanuela Sarti è stata Sindaca di Condove quando è cominciata questa avventura per ottenere la medaglia d'oro al Valor Civile della Resistenza. Oggi è Vice Presidente dell'Ampi. Quanta emozione in questo riconoscimento? Ma davvero molta. Una grande emozione quando Giuliano mi ha telefonato perché si è voluto che fosse lui dare la notizia. Insomma, ero davvero molto emozionata, commossa, oserei dire, perché intanto non ce l'aspettavamo più, perché erano passati parecchi anni. La Deliverance in Consiglio è passata il 6 ottobre 2014, quindi all'inizio del mio mandato. Non ce l'aspettavamo più e invece è andata una medaglia d'oro. Non ci aspettavamo neanche una medaglia d'oro. Come si tramanda questo valore? I giovani vanno coinvolti. Vanno coinvolti per far loro capire che le resistenze continuano nel mondo. La nostra ha portato i frutti della democrazia. È stato un risultato che ha comportato molti sacrifici. È stato un risultato che ancora non ha portato forse a una democrazia perfetta che si sognava. Però i giovani devono capire che in tante parti del mondo, adesso, ci sono resistenze. Giuliano Dolfini, storico e giornalista della Valle di Susa, con quanta emozione ha redatto il dossier per ricevere finalmente oggi la medaglia d'oro per Condove? Beh sì, effettivamente c'è stato un momento particolare, un incontro così con Purparlé, che con il sindaco Emanuele Assarti e il presidente dell'Ampi proposi. Ma perché non chiediamo un riconoscimento per Condove e la popolazione su tutto quanto è venuto durante la guerra nella zona, dove sono successe cose molto importanti? Ecco, e di fatto il Consiglio Comunale approvò all'unanimità la ricerca che io avevo effettuato, la quale venne poi trasmessa all'Istituto Storico della Resistenza e poi in Prefettura, e venne poi trasmesso al Ministero dell'Interno nel 2015. Tra le tante storie terribili in ogni famiglia, in ogni casa di Condove, ci raccontava poco fa una testimonianza importante di un uomo austriaco che aiutò i partigiani. Sì, era esattamente l'interprete del comando tedesco di Condove, che aveva occupato le officine Moncinisio, si chiamava Otto Floriani, era un austriaco ma non era un nazista. Lui ebbe occasione di incontrare il suo collega, interprete italiano, interprete di tedesco, Pietro Bassignana, e tra i due ci fu una reciproca simpatia, al che l'austriaco, l'ufficiale, quando poteva, trasmetteva a Bassignana, che di fatto poi lui ritrasmetteva attraverso le staffette ai partigiani, ogni volta che c'era un'azione di repressione sulla montagna, in quanto furono ben quattro i rastrellamenti sulla montagna di Condove, attraverso i quali i partigiani riuscirono sempre a rispingere gli attacchi dei fascisti e dei tedeschi, a volte anche con mille uomini, aerei, carri armati, artiglieria.